Aboka Edizioni presenta il facsimile del manoscritto Kitab al-Diriak, Terriak de Paris. Kitab al-Diriak, il libro della Terriaka. Questo splendido codice arabo che abbiamo di fronte affronta l'argomento della Terriaka, l'antico composto medicinale, un tempo usato e preparato per la cura dai morsi e dei serpenti delle nosi, in un secondo momento usato assolutamente come panacea. Il facsimile ci ripropone quest'opera esclusiva che Muhammad Abiy al-Fat ha composto e disegnato nel 1199, lasciandoci i ritratti di nove medici eruditi, fra questi Andromaco e Galeno, intenti a curare e preparare le erbe medicinali, che sono fra l'altro documentate nelle 72 pagine del libro. Si tratta di un documento straordinario della cultura arabo-persiana, gelosamente conservato presso la Biblioteca Nazionale di Francia. Per questo ha assunto il nome di Terriaka di Parigi. Si tratta di un facsimile con caratteristiche di altissima qualità. Le miniature sono satinate oro in lamina, la coperta è in oro satinato lamina e turchese, i tagli in oro sono rifiniti a mano sui tre lati. Produzione limitata di 999 esemplari. Il saggio critico, tradotto in sei lingue, è stato composto da cinque esperti arabisti che ci aiutano a meglio comprendere quest'opera fantasmagorica. Il facsimile e il saggio critico sono presentati in un elegante cofanetto con le medesime caratteristiche di qualità. Grazie a tutti.